bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono gabilo e da tanto che non lo dicevo vabbè c'è sempre una prima volta per prima volta no però vabbè oggi siamo con questa tizia e non so chi cazzo è però vabbè se vi ricordate nello scorso episodio avevamo vi ho fatto crescere questa bestia di albero ok ma con questo coso perché si chiama ascia ok ma praticamente voglio fare voglio andare in cima così praticamente ok beh perché così praticamente il legno lo prendo da sopra fino a sotto comunque la webcam la sto registrando con obs si no in questi giorni sto facendo un po di esperimenti per queste cose glommi io faccio questa cosa è comodo giocare col joystick no no perché oggi voglio praticamente iniziare a costruire proprio la casa sì no praticamente se vedete che cazzo però praticamente se vedete quella cosa la beh quella è praticamente un piccolo spunto di cibo in casa giusto giusto io ho praticamente distrutto tutto sto coso beh praticamente ho distrutto tutto il coso tutto l'albero e praticamente mi si è distrutta l'ascia beh anche giustamente cioè lo faccio così uno due tre quattro cinque e sei lo mettiamo un boccano a pochi ok adesso dobbiamo trasformare tutti sti cosi in legno normale eh dobbiamo fare una cosa molto bella dobbiamo 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 allargare la base ma che palle porca puttana ma lo vattene figlio di puttana il rammazzo la veste se vabbè che due palle voglio voglio da quando hanno messo i sti cosi costruire in acqua è diventato un cancro voglio non ma che posso fare così ok ok ma praticamente potremmo fare così senti vabbè tanto io mi ricordo la porta ce l'avevo perché l'avevamo rubata dai villager quindi stiamo a post aspetta vediamo che l'ho detto si la porta ce l'ho a post ok 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 la porta perché beh la privacy è sempre cosa bella oh vedi l'inizio di una casa però beh facciamo così sopra la porta sopra ci mettiamo questo ok beh però beh visto che a noi piacciono le cose comode beh ci facciamo dove ok ci facciamo una di queste beh perché così vi spiego anche a che serve vedete questo così beh per chi non è spero per chi va bene mmm non segue molto minecraft ok beh beh semplicemente perché so questa vedete è una pedana io ci posso sapere la porta si apre beh a che serve beh più che altro quando uno ci entra senza che deve aprire entrare e chiudere tu praticamente fai così beh apri e la porta si chiude da sola cioè è è comodo più che altro è comodo beh volevo dare il benvenuto ai nuovi iscritti a chi si è iscritto a chi si è iscritto da poco se vi siete iscritti ottima scelta se vi siete iscritti ottima scelta vi consiglio anche se volete non soltanto ai nuovi iscritti a tutti quanti se volete condividere i video beh perché boh a me fa solo che piacere poi se uno lo vuole fare io non mi la metto e comunque in tutto ciò abbiamo fatto una casa cioè una torcia oh e ok beh beh tutta questa sabra la mettiamo da parte beh beh perché così facciamo lascia perché si era rotta quella di prima oh vedete oh vedete una bella casa si è senza finestre però se facciamo così prendiamo questo questa la posso mettere qua si perché no ok ovviamente se mi volete seguire su instagram beh il link lo trovate qua sotto nella descrizione ok beh ma 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 possiamo dire che ha tutta l'area della casa beh perché abbiamo messo i pannelli e non i blocchi perché è bello risparmiare comunque beh ma l'unica cosa che dobbiamo mettere beh è soltanto dei pilastri beh beh allora beh possiamo fare così qua sotto qua sotto il legno lo mettiamo tutto a posto beh anche per un fatto di realismo tu che vuoi ma non poteva essere uno o no chiedere troppo due devono essere giustamente venite venite vedete che io sto avvantaggiato che vi colpiscono da fuori voi mi colpite da sotto uh quello l'oro mi ha dato che culo oro guarda il culo vuole che ho ottenuto un po' d'oro ma mettiamo questo beh perché è anche per un fatto di realismo cioè non è che tu quando fai la casa si legge su nulla cioè beh allora beh mettiamo questo questo loro ho preso da una zombie va benissimo è questo puoi dormire solo di notte eh sì perché giustamente è giorno c'è il sole logica oh ci siamo fatti una casa di tutto rispetto io comunque beh vi ringrazio di aver visto questo video se vi è piaciuto ovviamente non esitate a lasciare like iscrivetevi niente noi ci vediamo ad un prossimo video se vi è piaciuto ovviamente non esitate a mettere like seguitemi su instagram il link lo trovate in descrizione iscrivetevi condividete i video niente noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao 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 ciao